Lo stacco in questo istante, all'esterno è molto veloce Pussichetto M, è rimasto discosto Paffo del Rio, Pussichetto al comando su Fosforus, allargo Pata, Track, poi in corda Parisienne, ancora qui Blinkesh, Paffo del Rio che insegue. 200 iniziali coperti in 13,9, si va all'imbocco della prima curva con Pussichetto al comando Fosforus che sposta in anticipo su Parisienne, perlomeno la controlla perché non sposta in maniera drastica. 400 in 29,7, si va verso il completamento della prima curva, Pussichetto è sempre in vantaggio, Fosforus di rincalzo Parisienne che sposta e Fosforus che fa un po' dentro e fuori. Insomma, si controllano i due più attesi, intanto siamo a metà della retta opposta delle tribune con 600 iniziali in 46, Pussichetto, Fosforus, Parisienne, Pildrinkesh, Pata, Track, Paffo del Rio che prova a risalire all'esterno dopo l'errore iniziale, intanto metà gara in 1-2 abbondante. A questo punto Parisienne sposta in maniera più decisa e allora l'anticipa Fosforus all'imbocco della curva finale. Il primo chilometro è coperto sul piede dell'1,17,5, Pussichetto, Fosforus che incalza Parisienne e l'escea di Fosforus guadagna di dentro Pildrinkesh, poi Pata, Track e Paffo. Quattrocento metri al termine con Pussichetto sotto l'attacco di Fosforus, poi Parisienne, la retta di arrivo con Fosforus che appariglia a Pussichetto. A largo prova anche Parisienne, Fosforus è passato in seguito da Parisienne, poi da Pildrinkesh, Fosforus che prova l'attacco a Fosforus, guadagna Parisienne, Fosforus la controlla, viene un po' in su, sul palo, Fosforus, Parisienne, poi Pildrinkesh, Pussichetto. E' arrivato molto largo Fosforus, ma comunque ce l'ha fatta a respingere Parisienne Bar, 1,65 la quota di Fosforus e 1,59,6 il totale, quindi 15 scarso la media, 14,8, 14,9, una testa di vantaggio per Fosforus, Enrico Bellei, Gennaro Casillo e i colori del signor Sandro Dati.